Mercoledì si terrà un incontro simbolo ideato dal Comitato Pari Opportunità Avvocati di Caltanissetta e la cooperativa Etnos, nell'ambito nella giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l'8 marzo di ogni anno. Il Comitato Pari Opportunità donerà alle donne ospiti nella comunità un mazzo di mimose, accompagnato da un biglietto con scritto Non Sarai Mai Sola. Scopo dell'evento simbolo è sensibilizzare non soltanto l'avvocatura, attraverso la presenza del Comitato Pari Opportunità Avvocati Caltanissetta, ma la società in generale, al fine di contrastare ed eliminare ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale. Si tratta di un piccolo gesto per mostrare vicinanza e per dare un segnale di speranza a donne costrette a vivere nella paura e nel silenzio, e in particolare per porre l'attenzione su un tema purtroppo ancora oggi di grande attualità. Si intende così offrire un contributo simbolico, un messaggio di solidarietà per ricordare a tutti che non bisogna mai abbassare la guardia su un dramma che purtroppo, sempre più spesso, si consuma all'interno delle mura domestiche e non solo, senza distinzione di età, ceto sociale o paese di origine. E' grazie anche a momenti come questo che il Comitato Pari Opportunità intende sensibilizzare non soltanto l'avvocatura, ma la società in generale, a fine di contrastare ogni ostacolo che limiti di fatto o di diritto la parità e l'uguaglianza sostanziale.